Ben ritrovati, apriamo questo appuntamento con una mappa prevista per domani delle anomalie termiche a 1500 metri nella libera atmosfera. Guardate l'Italia, tutta l'Italia eccetto la Sicilia sarà con temperature oltre le medie del periodo. Andiamo a vedere la causa, la mappa a oltre 5500 metri di altitudine. Guardate l'alta pressione che interessa il Mediterraneo e l'Italia e guardate quella debole saccatura sud-ovest del Portogallo. Guardate come richiama aria più fresca a largo del Marocco, freccia blu e di conseguenza c'è la risposta calda ed umida da tutto il Nord Africa verso l'Italia. Le previsioni per mercoledì 29 luglio, bello e soleggiato con cielo sereno in tutto l'Abruzzo, qualche isolata nuvoletta si formerà nelle ore pomeridiane sulle zone montuose. Ventilazione debole da sud-est, mare calmo e temperature in ulteriore aumento. È tutto, mi fermo qui. Grazie a tutti.